E' uscito il nostro primo libro! Premetto che scrivere è da sempre la mia passione. L'idea di questo libro nasce da una proposta di GoWare che ci chiede di scrivere appunto una guida sulla Tanzania, paese che avevamo visitato qualche mese prima e quindi in questo modo si realizza il mio sogno. Il nostro libro è rivolto naturalmente a tutti coloro che vogliono intraprendere un viaggio in Tanzania ma anche a coloro che vogliono viaggiare stando comodamente seduti sul proprio divano e siamo sicuri che leggendo il nostro libro vi sembrerà di aver viaggiato con noi. Perché questa, oltre ad essere una guida pratica quindi dove diamo consigli per organizzare un viaggio in Tanzania è anche un racconto emozionale delle nostre esperienze che abbiamo vissuto, delle persone che abbiamo incontrato e di tutto ciò che abbiamo imparato in questo meraviglioso viaggio. Il libro lo potete acquistare sulla piattaforma Amazon anche nel formato ebook oppure sul sito della nostra casa editrice Google R e nel sito della Mondadori e della Felturelli. Comunque vi lasciamo il link qui sotto in descrizione. In questo libro troverete le cartine dei nostri itinerari e i QR code che vi riportano ai nostri video su YouTube e al nostro album fotografico a colubi. Un saluto a tutti i nostri futuri lettori Ci vediamo alla prossima!